Che ne dite ragazzi, è ora di tornare al lavoro? Beh si, mi sono preso la mia vacanza e adesso, penso domani o dopodomani, ricomincerò a mettere video quindi aspettatemi con l'ansia, o magari non ve ne frega niente, bel quesito Vabbè, in ogni caso ci vedremo presto, tranquilli, vi ho lasciati per tipo 2-3 settimane mi sono concentrato molto su League of Legends perché, vabbè, era un periodo in cui avevo molta voglia di giocare piuttosto di fare video o cose simili perché è comunque una cosa che richiede tempo ma non preoccupatevi, adesso ricomincerò e sono carico, più o meno anzi, ricomincerò anche a giocare appunto all'Xbox per ricominciare a registrare clip e cose varie e ci vedremo presto con un altro video, probabilmente su Battlefield 3 in ogni caso, ciao!